883 ispezioni a panifici ed esercizi di produzione e vendita di farinacei che hanno portato alla luce il 44% di irregolarità. È partita in questi giorni l'operazione a turno 2015 disposta dal ministro della salute Beatrice Lorenzin in collaborazione con i carabinieri dei NAS delle stazioni dell'arma. Le violazioni più ricorrenti hanno riguardato le carenze igienico-strutturali, l'assenza dell'autorizzazione sanitaria necessaria per l'esercizio dell'attività di panificazione, l'omessa attuazione del piano di autocontrollo, la mancata predisposizione di un sistema di rintracciabilità dei prodotti, l'irregolarità dell'etichettatura e le inosservanze della specifica normativa di settore. Sono stati inoltre riscontrati illeciti di natura penale, quali la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e frodi in commercio. In provincia di Lecce, in un panificio, sono state rilevate precarie condizioni igienico-strutturali e contaminazioni di materie prime ed attrezzature per la presenza massiva di insetti riduitori. In assa di Bologna hanno rinvenuto in un panificio alimenti con termini minimi di conservazione e date di scadenza superati anche da qualche anno, privi di etichettature e di documentazione attestante alla rintracciabilità, nonché in parte posizionate sul pavimento, ove hanno subito la contaminazione da parte di agenti esterni. A Torino sono stati rinvenuti impasti per pane, pizza e panettoni indabitamente congelati in vasi da brine e conservati in sacchetti di plastica, privi delle indicazioni sulla natura del prodotto e della data di congelamento. Complessivamente i carabinieri di Ainas, nel corso della specifica attività di controllo, hanno sequestrato circa 40.000 chili di alimenti vari, pane, prodotti da forno e farine, procedendo alla chiusura di 41 strutture tra panifici, depositi alimentari ed esercizi di vendita. Grazie per la visione!